shalom a tutti parashat a shavua parashat i vari a parashat i vari a parashat i vari a e a carlos burkhu in nova moshe la promessa di liberare il popolo e lo fa con quattro promesse quattro le famose quattro forme quattro espressioni di liberazione che sono la prima allusione dei quattro bicchieri che noi beviamo nella prima sera del sede no e queste quattro forme sono appunto vi salverò vi farò uscire vi prenderò e vi porterò in Eretz Israel e sì vi farò uscire ve i salti vi salverò ve i galti vi redimerò ve la cartelli le ame vi prenderò come popolo e i chamim dicono proprio per queste quattro espressioni di Keulah si bevono cioè i quattro bicchieri di vino che noi beviamo durante la sera del sede sono un riferimento a queste quattro espressioni di salvezza che ognuno ha un significato diverso ma vediamo tutte queste quattro espressioni sono finalizzate tutte queste espressioni finiscono e la cartelli le ame vi prenderò come popolo e allora saprete che io sono il vostro signore Akkadosh Baruch Hu dice l'essenza di Akkadosh Baruch Hu non è qualcosa che si può concepire per un essere umano ma si può raggiungere in un certo qual modo attraverso lo studio della Torah attraverso il Matan Torah cioè per il fatto che Akkadosh Baruch Hu ci prenderà come popolo dandoci il nostro contratto nuziale che è la Ketubah che è appunto il Matan Torah che vale come Ketubah allora solo lì noi potremmo conoscere Akkadosh Baruch Hu davvero è una cosa pazzesca noi spesso pensiamo che la Torah e Akkadosh Baruch Hu sono due cose distinte qui paradossalmente sta rivoluzionando tutto il nostro modo di pensare dicendoti dicendoci che cosa vuol dire che la Torah e Akkadosh Baruch Hu sono la stessa cosa intesa non in modo in modo idolata non dobbiamo intendere che la Torah va venerata come Akkadosh Baruch Hu ma dobbiamo intendere che attraverso lo studio della Torah possiamo avvicinarci alla comprensione di Akkadosh Baruch Hu la Torah è molto vicina ad Akkadosh Baruch Hu e questo noi non dobbiamo divinizzare la Torah ma dobbiamo attraverso la Torah la Torah è lo strumento per avvicinarci alla Chedusha la santità di Akkadosh Baruch Hu voglio Akkadosh Baruch Hu che attraverso lo studio della Torah possiamo sempre avvicinarci alla sua presenza alle sue middot ai suoi attributi e gli scotri avere il merito della Chedusha e le ma a tutti i suoi attributi e gli scotri